Buonasera a tutti, mi chiamo Tommaso Palombi, sono un dottorando della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università di Roma alla Sapienza. Lo studio che sto per presentare aveva come obiettivo la valutazione di un intervento di media literacy sull'utilizzo di sostanze dopanti nello sport, dette anche Performance and Appearance Enhancement Substances, abbreviato PAES. L'ipotesi di ricerca era che tale intervento potesse aumentare la consapevolezza dell'influenza esercitata dai media, aumentare la capacità percepita di gestire correttamente i messaggi mediatici in riferimento all'utilizzo di sostanze nello sport, aumentare il realismo percepito dei media e che potesse diminuire gli atteggiamenti positivi verso l'utilizzo di sostanze dopanti. Hanno preso parte al progetto 8 licei sportivi, 162 studenti hanno preso parte al gruppo di intervento, mentre 158 al gruppo di controllo. L'intervento era strutturato in due fasi, una prima fase gli studenti hanno partecipato a sei sessioni affidate a tre esperti, nello specifico un esperto in scienze motorie, un giornalista e una psicologa dello sport, mentre in una seconda fase gli studenti hanno partecipato ad ulteriori sei sessioni in cui hanno sviluppato in autonomia, seppur sotto la supervisione della psicologa dello sport, una campagna antidoping finalizzata alla condivisione sui social media. Gli studenti di entrambi i gruppi hanno compilato il medesimo questionario pre e post intervento, il quale includeva misure volte alla valutazione delle variabili di cui ho parlato in precedenza. Un primo set di analisi ha riguardato l'attenibilità delle misure chiave dello studio ed inoltre ha previsto una serie di manova miste a due fattori, fattore gruppo intervento versus controllo e fattore tempo pre e post intervento. L'attenibilità delle misure utilizzate è risultato accettabili, inoltre i risultati hanno mostrato un aumento significativo nel gruppo di intervento per quanto riguarda la capacità percepita di gestire correttamente i messaggi mediatici in riferimento all'utilizzo di Paes e hanno mostrato un aumento della consapevolezza dell'influenza esercitata dai giornali. Per quanto invece riguarda il realismo percepito dei media e gli atteggiamenti positivi verso l'utilizzo di sostanze dopanti i risultati non hanno mostrato alcun effetto significativo. Il presente studio rappresenta dunque il primo intervento di media literacy svolto interamente online e rivolto a un target particolarmente a rischio per l'utilizzo di Paes, ovvero gli studenti di licei sportivi. Come è dimostrato appunto in letteratura il consumo di Paes è particolarmente frequente tra gli adolescenti a tutti i livelli di sport o di attività fisica. Esattamente come studi precedenti che hanno effettuato, che hanno svolto interventi di media literacy faccia a faccia, il presente intervento che è stato erogato completamente online ha avuto un effetto significativo sulla percezione da parte degli studenti delle proprie capacità di gestire correttamente i messaggi mediatici in riferimento all'utilizzo di sostanze dopanti nello sport. Grazie a tutti.